Ciao a tutti, quanto sono ignoranti delle regole e delle grammatiche i nostri ministri? Prima di affrontare questo tema però iscriviti al canale, seguimi sulla pagina Instagram Massimo Terramasco e ti ricordo all'evento di Torino venerdì 6 marzo alle 20.45 elimini blocchi emotivi per avere la felicità che meriti riferimento 333 15 11 703 e ti ricordo di abbonarti al canale Massimo Terramasco perché abbonandoti al canale Massimo Terramasco potrai intraprendere il tuo percorso di crescita personale con me è facile farlo, basta andare sull'un page del canale, affianca il tasto in iscriviti, trovi il tasto in abbono e ti abboni e inizi il tuo percorso di crescita personale con me e veniamo invece al tema che è un tema divertente no? perché l'altra volta giravo un video su Facebook di una trasmissione televisiva non ricordo quale fosse esattamente ma c'era mi sembra Feltri che la commentava e nella quale veniva intervistato il nostro ministro degli esteri non ricordo il nome no, solo che non voglio fare pubblicità diciamo così quindi il quale parlando del coronavirus appunto se ne è uscito con nell'emergenza del coronavirus cioè ha usato questo termine coronavirus ora uno dice perché? perché probabilmente facendo il ministro degli esteri sta studiando l'inglese perché come diceva pure Feltri non lo conosce evidentemente l'inglese questa è un'altra cosa assurda cioè per fare il bidello a scuola devi fare, devi conoscere l'inglese per fare il ministro degli esteri non conosci l'inglese va bene, va bene così però questo è veramente l'apoteosi dell'Italia cioè io non dico che uno deve essere ferrato per fare il ministro di quel tema al 100% ma un minimo di cultura generale cioè ragazzi ci servirebbe anche per per chi fa politica non dovrebbero secondo me neanche farti entrare in politica se manco non sai le basi fondamenti della lingua italiana e del latino che insomma e non lo sai cioè non lo sai niente praticamente comunque ha come dire ha reso anglosassone questo termine che virus non è un termine inglese quindi non è che si pronuncia virus no sapete che la I in inglese si pronuncia I quindi non è virus ma è virus che significa veleno ed è una parola latina 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 ora questo uno dice ma come mai questa osservazione ma perché io credo che per rappresentare una nazione bisogna anche avere un minimo di cultura cioè per carità la vecchia la vecchia classe politica sicuramente non ha fatto del bene in Italia ma perlomeno erano personaggi che come dire io non so ricordo anche Anderotti De Mita come si chiama quell'altro Spadolini erano tutte persone che comunque avevano una cultura avevano una cultura mononistica una cultura una vasta cultura perché poi avranno fatto le cose fatte male però per dire sapevano gestire le situazioni oggi abbiamo una classe politica che non sa gestire nulla non sa gestire l'emergenza non sa cioè è sprovveduta purtroppo credo questo che nella classe politica dovrebbe essere una classe politica che sa come gestire le situazioni e se metti degli emeriti diciamo sconosciuti che andrebbero persone che non sanno gestire nulla che potrebbe magari andrebbero bene come rappresentanti della Folletto ma andare a fare ministri servono altre competenze secondo me questo è un mio punto di vista e comunque andate a studiare per questo video è tutto ti ricordo l'appuntamento di Torino venerdì 6 marzo ore 20.45 elimini i blocchi emotivi per avere la felicità che meriti riferimento 333 15 11 703 per questo video è tutto ti do appuntamento prossimo abbonati al canale Massimo Terramasco ciao a tutti